E Santisidoro dove lo metto? Non c'è pace per il patrono di Giarre per cui nel corso degli anni vi sono sempre state difficoltà a trovare un giorno idoneo per celebrare la festa patronale, dato che ogni anno in concomitanza ricorrevano lo stesso giorno altre feste di santi nel territorio. La data della festa di Santisidoro è stata per questo ballerina e anche quest'anno non va meglio. Il 15 maggio, infatti, giorno in cui liturgicamente la Chiesa ricorda Santisidoro, è domenica di Pentecoste. È solennità e la Chiesa vuole che le solennità abbiano precedenza sulle feste dei santi. Niente da fare quindi per il 15 maggio. Non va meglio per la domenica successiva, il 22 maggio, perché è la solennità della Santissima Trinità, fuori anche il 22. E domenica 29 maggio? È la solennità del Corpus Domini, niente da fare neanche per questa data. Bisogna quindi cambiare la pagina del calendario e si giunge al 5 giugno, ma è il giorno delle elezioni amministrative, data decisamente inopportuna per celebrare la festa patronale. Alla fine l'arciprete Don Nino Russo propende per celebrare la festa di Santisidoro il 12 giugno, che però è anche la vigilia della festa di Sant'Antonio da Padova. Il tutto fermo restando il fatto che i giarresi non sono molto affezionati a Santisidoro, dato che non partecipano in massa alla sua festa come invece avviene nei comuni vicini per le feste patronali. Forse anche per questo Santisidoro non si impegna più di tanto per trovare la data giusta per la sua festa a Giarre.